Vince la voglia di restare aggrappati a questa Serie D con le unghie e i denti del Bitonto contro una Palmese tra le squadre più in forma del girone di ritorno, ma reduce da una settimana shock con il meno uno a tavolino per la sfida interna contro il Manfredonia, interrotta ad inizio ripresa per il malore ad un tifoso sul risultato di 2-2 sulla sfida. Naturalmente pendono i ricorsi dalle due squadre. Rotondo e Ventola segnano nel finale di gara mentre il Baby Civita tra i pali tiene in vita i suoi dagli attacchi campani. Lo Seto sceglie Chacon all'ultimo minuto in campo da titolare al posto di Prinari nel 3-5-2 con figlio Lia e De Michele in avanti. Squalificato, Palazzo rientra a Zugaro dallo stop del giudice sportivo. Per Grimaldi e il suo miracolo sportivo con la Palmese diverse assenze ma attacco affidato a Silvestro, Volpe Amato nel solito 4-3-3. Il tocco alto di figlio Lia deviato in corner è il primo squillo per i padroni di casa che tuttavia subiscono subito l'intraprendenza sulle fasce della Palmese con il cross di Peluso e il tocco volante di Fusco murato dalla difesa di casa. Poco altro per quasi mezz'ora quando Mollica ha la palla buona per battere a rete si immola. Manzo in corner sugli sviluppi la battuta pericolosa di Zugaro e il colpo di testa di Tangorre, la buona posizione che non inquadra però lo specchio. Allo scadere di frazione poi De Michele serve in profondità per figlio Lia che calcia in porta ma è attento Raffaelli. Nel caldo del Rossiello finisce senza reti il primo tempo nella ripresa però subito avanti la Palmese con la svirgolata del neo entrato con E. La buona posizione su assist di Amato Peluso ci prova con un tiro ben indirizzato dal limite ma che non scende abbastanza ma alla mezz'ora ecco il vantaggio di casa. Pasticcia la difesa della Palmese su una rimessa laterale di Gianfreda. Palla che finisce sui piedi del neo entrato rotondo classe 2005 che deve solo spingere. la sfera in porta per segnare il suo primo gol con la maglia bitontina. Festa grande Bitonto che stappa la partita e soprattutto la sua partita. Chacon colpisce un clamoroso palo dopo essersi liberato bene da sinistra, Raffaelli battuto e poi arriva anche il raddoppio, sempre un ispirato rotondo a destreggiarsi in aria sino all'atterramento di Dorsi che vale il penalty per il direttore di gara. Dal dischetto si presenta Danilo Ventola che spiazza Raffaelli e chiude i giochi per i padroni di casa. Finisce così con il Bitonto a riassaporare il successo dopo otto gare oltre due mesi di astinenza e ad avvicinare la zona play-out, unico obiettivo possibile a tre gari dal termine della stagione regolare. Prossima sfida non certo banale per la salvezza con la trasferta a Gravina per gli uomini di Loseto. Palmese invece a caccia della matematica permanenza nella sfida casalinga contro la Gelbison.